Ciao a tutti, ben ritrovati con Videopep, il tradizionale appuntamento col Videopep post fiera in cui mostro le cianfrusaglie che mi sono riportato a casa, in questo caso da Los Angeles. Il video, insomma, non ho tante cianfrusaglie da mostrare, in realtà ci sono anche meno porcherie del solito, quest'anno sono stato, ho avuto il braccino corto, ho avuto anche poco tempo per varie disgrazie, ma non sto qui ad approfondire più di tanto, non ho tra l'altro la statuetta di Cyberpunk del 1977 che regalavano, se andavi a vedere la presentazione di CD Projekt Red, ma per me ormai è tradizione, non lo faccio neanche apposta, ma è tradizione, io vado a vedere le presentazioni di CD Projekt solo quando regalano la maglietta, quando regalano la statuetta non ci vado, non è che lo faccio apposta, è semplicemente quello che il destino ha scelto per me. Una cosa che ho riportato, ce l'ho addosso, sono questi fantastici occhiali di Sirius Sam che davano, nello stand di Devolver, anzi nel parcheggio di Devolver, se andavi a vedere la presentazione di Sirius Sam 4, che poi alla fine era solo uno sboronato per farti vedere centinaia di migliaia di nemici che apparivano all'orizzonte e si apprestava a falciarli con la miti trebbiatrice, l'ho fatto e questi sono gli occhialetti, c'è anche qua il sacchettino che li conteneva, me li rimetto, così non vedo una fava. Che altro abbiamo? Vabbè, come la tradizione mostro il badge, badge media, quest'anno, come l'anno scorso oltre al badge media c'era quello industry e quello game, direi che è quello di chi l'ha comprato, con dietro attaccato l'adesivo press stampa del The Mix che è il solito evento tutto dedicato ai videogiochi indie a cui si va per provarne 112 su 860 che ce ne sono e tra l'altro questo è il cartellino per votare i best of the show e insomma fare in modo che il gioco che ti piace di più prenda un premio. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo le mie fototessere perché il giorno della partenza mi hanno fregato il passaporto e ho dovuto fare un nuovo passaporto, sono riuscito a fare un passaporto nuovo in due ore, signori, amici, amiche, miracolo di gestione e però sono partito comunque due giorni dopo perché bisogna prendere un altro aereo. Ma va bene, andiamo avanti, andiamo avanti, non vedo veramente una fava. Qua cosa abbiamo? Ah vabbè, qua ci sono biglietti da visita, Overcooked, c'era Overcooked 2, è molto figo, è Overcooked 2, Playmage, che non so cosa sia, non mi ricordo, Croteam, poi abbiamo, questi sono un'agenzia di PR, suppongo, poi poi poi, no il biglietto di Remedy non ve lo faccio vedere perché c'è sopra l'email, questo è un fantastico biglietto da visita di Creative Assembly, vabbè, mi sono comprato PC Gamer tornando in aeroporto, è una mia tradizione, qui abbiamo una fantastica chiavetta USB in pelle umana di Total War, fantastica si fa per dire appena 8 giga, ma vabbè stavo dicendo 8 mega, però Total War devo dire, Total War Kingdoms, 3 kingdoms, molto carina la maglietta, molto carino anche il gioco, questo fatto che si vedono i supereroi che si menano mentre l'esercito si ferma e lascia fare, devo dire, è una tratta molto sfiziosa, abbiamo una spilletta di Overkill's The Walking Dead, gioco multiplayer basato sul fumetto di Robert Kirkman, poi cosa abbiamo qua? Abbiamo, beh, ovviamente come al solito le riviste gratis che danno, che vado sempre lì e pesco, c'è GameIndustry.biz, non saprei che esistesse la versione cartacea, e questo Innovation and Tech Today, che non so cosa sia, ma è una cosa grattina che non si rifiuta mai, poi una cosa carina, all'ingresso, a entrambi gli ingressi c'era il distributore di quotidiani, sullo stile di quelli insomma che si usano per distribuire i quotidiani per strada, che usano gli americani, vai lì metti la montagna e lo compri, questo si apriva senza pagare nulla, e dentro c'era una copia del Daily Bugle, con, tra l'altro, notizia in prima pagina, l'evasione dal raft, dalla prigione, che è sostanzialmente quello che succede, la prigione per i super criminali, è quello che succede nella demo che ha fatto vedere Sony alla conferenza all'E3, che non era tra l'altro la demo con cui era possibile giocare, perché in quella c'era Electro, mentre nella, no scusate, c'era Shocker, mentre nel, in quello che hanno fatto vedere con l'evasione c'è Electro, insomma, i sinistri 6, molto carino il giornale, molto, vabbè, ovviamente è una roba pubblicitaria, però ci sono anche delle cose spizzose, simpatiche, tipo ad esempio qua vedete c'è la pubblicità dell'ufficio legale di Matt, di Nelson e Mardok, Sad Air Devil, ci sono, c'è l'intervista a Wilson Fisk, Kingpin, ci sono inserzioni pubblicitarie, un sacco di roba, di roba carina, c'è tra l'altro ne ho preso due copie perché c'era chi lo voleva, a proposito di chi lo voleva, mi sono arrivate un sacco di ordini su cose da comprare nei vari negozi delle tre, in particolare in quello Sony che c'è fuori, con le loro cose ufficiali, in cui c'è sempre una coda devastante, infatti sono riuscito ad entrare solo nell'ultimo giorno e a recuperare solo una delle cose che mi avevano chiesto, ovvero il cappellino di Death Stranding, anzi forse di Kojima Production, si di Kojima Production, mi ha chiesto il Camilleri. Poi, poi, poi cosa abbiamo? Abbiamo la chiavetta USB, una normalissima chiavetta USB come se non sono viste 100.000, con però il porta, chiavetta, porta badge di Polimega, che è la console per il retro gaming su cui funziona l'hardware, funzionano cartucce, CD originali, è fatta a moduli, il modulo base, ci vanno i CD e ci funzionano i CD del PC Engine, del Mega CD, della PlayStation 1 e del Neo Geo CD, poi eventualmente potranno fare aggiornamenti software per farci girare altro, tipo, non so, il Saturn, e poi se vuoi invece usare cartucce ci sono i moduli extra, c'è quello per il NES, quello per il Super NES, quello per il Mega Drive e quello per il PC Engine, sono quelli previsti inizialmente, poi magari ne faranno altri, mi è sembrata molto carina per chi magari si accontenta e non vuole proprio l'hardware originale, è un'opzione, poi qui cosa abbiamo? Il braccialettino per andare a sedersi nella sala stampa, quella extra, quei divanetti, il cibo e quelle cose simpatiche, praticamente ho finito, c'era il negozio che vendeva tutte le puttanate Nintendare, in realtà io non lo trovo granché belle, però mia figlia ce l'aveva fissa di Mario e quindi per quanto non mi piaccia per niente, gli ho preso un pepazzo di Mario, 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 e questo invece è già più carino, Kappi, che adesso mettiamo, Kappi più gli occhiali di Sirius Sam, crea un contrasto meraviglioso, tra l'altro qua guardate c'è anche là il cartoncino insomma, e niente è tutto qua, come dicevo, no guarda sì questo è il biglietto da visita di New Way Toys che sono quelli che fanno il Polimega, è tutto qui, come dicevo non molto ma che vedevo dire, vi posso dire che arriverà, penso, spero, adesso lo devo organizzare, devo organizzare la registrazione, il solito reportage sulle tre in cui chiacchiererò con, non è ancora definito, non sono ancora definiti tutti i partecipanti, ma insomma si chiacchiererà come al solito un pochino delle conferenze e poi di tutti i giochi che abbiamo visto e provato, spero sì, fare una cosa carina come al solito, e sicuramente, cioè sicuramente, si spera questa settimana, registriamo finalmente l'Outcast Popcorn su Jurassic World che dovrebbe essere divertente perché ci sono pareri abbastanza contrastanti, vabbè, c'è Outcast Weekly sempre parlando di podcast e se si riesce entro fine mese dobbiamo anche fare il nuovo chiacchiere borderline in cui probabilmente un pochino, magari in maniera più tangente, si parlerà anche lì di E3. Al di là di questo, questa settimana magari non ci saranno tantissimi contenuti perché dobbiamo un attimino riprenderci le ordinali idee, comunque andiamo avanti con la cover story che vi ricordo sarà molto probabilmente l'ultimo cover story prima della pausa estiva delle cover story, che spero sia risultato interessante anche quella, spero non abbia fatto troppi casini in abbacchio e in mia assenza, direi che però è veramente tutto, vi butto qua i codici, mi levo gli occhiali perché sennò non vedo una fava, allora sono quattro codici Steam e sono tra l'altro gli ultimi quattro che ho, quindi se c'è in ascolto qualcuno che ha codici che avanzano e li vuole buttare lì per il rigiro qua nella comunità di Outcazzari, è il benvenuto. Dicevo i codici sono Slime Sun, K2J, Bologna, Roma, Q, Imola, Genova, Napoli, H, Atalanta, 8, 0, 2, 4, poi Scanner Sombro, Sombra, che è 9J, 8, Imola, 8, 3L, 8, 2, X, 4Z di Zorro, H, 8, Zorro, poi Ethereum, Imola, H, Lima, 3, Napoli, Genova, 0, 9K, Torino, H, Genova, Bologna, Lima, 2 e l'ultimo, forse il gioco più interessante di questo gruppo, Strafe, la Millennium Edition, abbiamo un Domodossola, Genova, Q, Imola, Napoli, Lima, 6, 9, Napoli, Y, Napoli, Imola, X, Y, Firenze. Direi che è tutto, grazie per l'attenzione, non so se ci vediamo la prossima settimana, comunque restate tornati. Grazie per l'attenzione, non so se ci vediamo l'attenzione, non so se ci vediamo l'attenzione, Grazie per l'attenzione, non so se ci vediamo l'attenzione, non so se ci vediamo l'attenzione, non so se ci vediamo l'attenzione,